Hello guys, allora adesso, altra mappa, sono alla ricerca del compenso, allora sono un po' lontano dallo schermo, quindi permettetemi, permettetemi di guardare più vicino, tempo, lavoro, vabbè avete capito, guadagno il mio tra, ok, il compenso, dobbiamo andare, dove c'è il mio biscottone, ecco il biscottone, la fortezza, todo grande, rosita, lo sa, allora ragazzi, fortezza, raggiungiamo questi due enormi archi, torre di legno enorme, e saliamo, anziché proseguire verso la scogliera, proseguiamo, per di qua, scagliamo, Ed eccoci, che troveremo, il tesoro del compenso, eccolo qui, lo rifaccio, compenso, eccolo qua, tizioni perenni, eccolo fatto, Grazie.